Ciao mia piccola luna, spero di non esserti mancata troppo e spero che in mia assenza tu non abbia avuto troppi problemi di attenzione e adesso sono qui e tutto ciò che ti chiedo è concentrarti, concentrarti, concentrarti su tutto ciò che ti farò vedere cerca di seguirmi il più possibile, cerca di non deconcentrarti, segui il mio dito, cerca di non deconcentrarti ti piace questo suono? dimmi quante volte lo senti? ok, da quale lato lo senti? adesso? ok, adesso? bene, e adesso? ok, ora? benissimo, adesso ti chiedo di concentrarti sui glitter all'interno di questa piccola sfera, concentrati sui glitter, seguili, seguili seguili? seguili? ti piacciono? è uno dei miei colori preferiti? bene, ora ho un pezzetto un pezzetto di legno bianco o comunque senza niente e un pezzetto di legno con un pontino nero? tu devi dirmi quale dei due entra per primo nella tua visuale? ok, adesso? ok, e ora? ok, adesso? ok, adesso? ok, ora? ok, stai andando benissimo, se dirmi cos'è questa? a cosa serve? benissimo, quante volte mi senti tagliare? bene? bene, adesso? ok, adesso? concentrati sulla luce e dimmi quando entra nel cerchio? ok? dimmi quando? ok, dimmi quando? continua a concentrarti? bene, bene, benissimo, adesso? scegli quella che ti piace e seguila bene, bene, scegli una delle tue che ti piace e seguila bene, bene, benissimo, di che colore è questa? di che colore è questa? è questa? ottimo, adesso prova a testare il tuo intuito, quale toglierò? quella rosa o quella gialla? hai indovinato? se è rimasta quella che ti piace, seguila, se è stata tolta quella che ti piaceva, seguila luce ok, bene, bene, benissimo, stai andando benissimo, stai andando davvero davvero bene, bene, ho tre penne qui, ho questa? sai dirmi che animaletto è? cosa sta facendo? sì, sai dirmi che animaletto è? magari così? sì, cosa sta facendo? sì, sai dirmi che animaletto è? cosa sta facendo? sì, ricordi di che colore erano le penne? di che colore era la prima? hai indovinato? hai indovinato? hai indovinato? hai indovinato? di che colore era l'ultima? hai indovinato? adesso vorrei che ho indovinato? adesso vorrei che ti concentrarsi su dei numeri che sto per dirti, ok? sì, ripeteli dopo di me 36, 42, 58, 88, 48, 39, 35 benissimo benissimo sai dirmi quante spruzzate? senti ok 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 sai dirmi cosa è questa? le sue foglie sono tonde o a punta? benissimo è questa? le sue foglie sono tonde o a punta? di che colore è questo metro? bene, dimmi il primo numero che vedi? ok ok di nuovo ok ok di nuovo di nuovo ok benissimo adesso lo facciamo con un metro più morbido dimmi il primo numero che ti capita sott'occhio ok che cosa rappresentano queste due penne? ok di che colore è il fiore di questo cacca? ok ok che cosa rappresentano queste due penne? ok ok di che colore è il fiore di questo cactus? e di questo? ok bene segui quello che ti piace ok benissimo adesso adesso farò sparire uno dei due se è sparito quello che ti piace guarda quello che non ti piace se è sparito quello che non ti piace dimmi quante dita sono? quante? 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 bene guardando il mio dito qui sai dirmi che colore vedi apparire? ok continua a guardare il mio dito qui che colore vedi apparire? ok continua a guardare il mio dito che colore vedi apparire? ok continua a guardare il mio dito che colore vedi apparire? ok dimmi adesso da quale lato della tua visuale vedi comparire queste due strisce ok? ne farò comparire una per volta tu devi dirmi da quale lato vedi apparire la strisce ok? bene ottimo ottimo benissimo benissimo bene ok sai dirmi quali forme ci sono su questo coperchio? ok che colore è questo? questo ok 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 bene benissimo ottimo sai dirmi quali forme ci sono su questo coperchio? ok che colore è questo? questo 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 è questo ottimo riconosci questa principessa? si come si chiama? ok e questa? si come si chiama? ok è questa? come si chiama? benissimo ora ho una penna rosa e una penna azzurra dimmi quale delle due su quale dimmi su quale sto cliccando quella rosa o quella azzurra ok 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 benissimo ora guardando il mio naso dimmi che colore c'è alla tua destra e alla tua sinistra ok guardando il mio naso dimmi che colore c'è alla tua destra e alla tua sinistra benissimo benissimo guardando il mio naso dimmi che colore c'è da sopra ok guardando il mio naso dimmi che colore appare dal basso ok benissimo ora ti farò vedere velocemente qualche forma ok tu dimmi cosa vedi non importa se sbagli ok sarà veloce che forma è? 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 io spero davvero che questo diabio rilassato è fatto concentrare e noi ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo nel prossimo video buonanotte mia piccola luna buonanotte 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 dolce notte buonanotte Grazie.